Fosco, ma hai capito chi è arrivato? Dattore! Cosa sei tornato a fare? Sono vent'anni che non ti fai via. Ho sentito il richiamo della famiglia, delle radici. Fred, va tutto bene? Mi hai fatto sempre solo i tuoi interessi e mi hai lasciato solo i problemi. Ma perché non ci state un po' zittini, cazzo? Capito. Ma che tuo cazzo? Non fa una mazza dalla mattina alla sera. Si scatta le foto e mangia un buo maiale. Promettetemi che andrete sempre d'accordo. Voi siete fratelli! Promettetemelo eh! Che è morta? Secondo te? Lascio ai miei due nipoti la casa di famiglia e tutti i terreni. A patto che non li vendano, ma anzi li gestiscano insieme d'amore e d'accordo. Mi dici un solo motivo perché io dovevo imbarcarmi in questa impresa con te? L'individuo più bugiardo, falso, traditore. Ma veramente modi così tanto? Vai via! Buongiorno notario, saluta a casa. Senta, non ci passo un'idea. Non la vediamo perché siamo troppo occupati a scannarci. Può ereditare un grosso patrimonio e preferisce fare lo schiavo quello là. Bosco! Si fa una linea di prodotti tutti coltivati nei nostri poderi. Vai via! Siete fratelli, una soluzione la troverete. Eppure stamattina me lo sentivo. Che si sentiva? Che l'era una giornata di merda. Che!